Rispetto all'andata siamo in una situazione completamente differente, prima avevamo molte difficoltà, adesso le difficoltà siano state superate, però comunque se ne presentano sempre di nuove. Ora abbiamo come obiettivo di andare a fare un risultato importante a Lanciano, è quello che vogliamo fare. Il morale viene aumentato a dismisura con una vittoria e soprattutto perché è uno scontro diretto, comunque il Lanciano lo abbiamo a pochi punti, se riusciamo a vincere lo allontaniamo, quindi è una partita fondamentale sotto tutti gli aspetti. Non voglio togliere nessuno, perché secondo me è più bello di una partita dove non manca nessuno, è una delle scusanti, vincere è la cosa più bella di tutti, preferisco affrontare un Lanciano con tutte le carte che possono giocare come noi e batterli sul campo. L'ho fatto una settimana di riposo, mi sono tranquillizzato e ora sono pronto. L'ho fatto una settimana di riposo.